Il crescente traffico nei rioni Casale e Materdomini, frutto della presenza di via Brandi di numerosi istituti scolastici, rappresenta una grave criticità dei residenti, tanto da costringere più di qualcuno a modificare le proprie abitudini. Certo, il problema riguarda l'intera città di Brindisi, visto che i ragazzi arrivano da ogni quartiere e dai comuni della provincia, ma chi abita al Casale, a Materdomini e al Paradiso risulta essere particolarmente penalizzato dal traffico che ogni giorno imbottiglia le strade per raggiungere il centro città. Purtroppo i lavori per la realizzazione della viabilità supplementare prevista nel progetto Shuttle proseguono incredibilmente a rilento e quindi bisogna individuare soluzioni alternative. Il problema maggiore è quello determinato dalla presenza, negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, di decine di autobus del servizio extraurbano utilizzati da studenti e docenti pendolari. Per questo sarebbe opportuno, come proposto dal consigliere comunale Alessio Carbonella, riaprire il dialogo con il comando interregionale marittimo sud della mania militare, finalizzato a individuare un percorso amministrativo condiviso per la cessione e la valorizzazione di un'ampia area di demanio militare attualmente in disuso, che si affaccia proprio su via Nicola Brandi, ubicata tra gli alloggi destinati al personale militare e la caserma dei vigili del fuoco. L'idea, approfondita nella scorsa consigliatura anche sul suggerimento dei dirigenti scolastici dei plessi nelle vicinanze, era quella di realizzare un'area di fermate di sosta per i bus in cui poter svolgere le manovre senza impiegare la sede stradale. Forse proprio questa, al contrario delle tante ipotesi formulate anche di recente, rappresenta un'opzione concreta e di immediata fattibilità. Il problema, in ogni caso, sarà oggetto di attenzione nel Consiglio Comunale del 5 ottobre, quando su iniziativa del PD si discuterà di un emendamento al piano triennale delle opere pubbliche, proprio per dare consistenza a questa interessante proposta.